Sì, sono due ore che ti aspetto, dove eri? È troppo pesante, già faccio in chio, aiutatemi! Adesso vi insegnerò a me, faremo conto che questa sia la tavola. Ora, per esempio, in mezzo che mettiamo? Vai, 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 vai! Signore! Non lo so, non lo so, non lo so, non lo so! Perché vi vai servirlo a te, ospito padrone, anche se mi a fusta! Non lo so, non lo so, non lo so! È lui! Adesso cosa faccio? Ma chi sei lo è il tuo paron? Chi sei lo è lo che... E allora andatemene! E lasciatemi in pace! E allora andatemene! E allora andatemene! E allora andatemene! Cosa ciò che si piaceva? E allora e ti? Cosa ciò che mi piaceva? Ahetà! E allora e te? E allora e te? Gli occhio, che ci sono? E allora e te? ì... Grazie.